Dottor Grassi, EnergyMed è un appuntamento importante per Napoli, per l'Italia, soprattutto per il Sud. La Green Economy a che punto è nel nostro paese? EnergyMed innanzitutto è l'ottava edizione, quindi tanto di cappello per un'organizzazione che continua ogni anno a dare riscontro e da qualche anno focalizza il tema sulla Green Economy. La Green Economy è soprattutto una grande opportunità di mercato, una grande opportunità di lavoro, una grande opportunità di sviluppo. È all'interno di un processo di innovazione di per sé e quindi noi come Cesvidec lo promuoviamo fra i più significativi. La Green Economy è un'opportunità ancora non colta integralmente, pur essendo la campagna un soggetto molto attivo. In Italia, sul mercato globale italiano Napoli occupa circa il 4% e vede 10.000 aziende nella provincia di Napoli impegnate su questo tema con tutti gli indotti positivi ovviamente che ne possono derivare.